E' una enorme tristezza per Modena, è una grossa perdita. Ci mancherà molto, ma per tutto il mondo, tutto quello che ci ha dato, resterà sempre nei nostri cuori. Io credo che ci sia stato un momento abbastanza di tensione tra i modenesi e Luciano. Che i modenesi sono fortemente dei conservatori, quindi conservatori anche nei sentimenti, quali possono anche cambiare nella vita. Però poi, passata la Buriana, passato un po' il periodo, lo hanno riabbracciato come il Luciano dei modenesi. E' un cittadino che ha onorato la mia città, è una persona che ha fatto tante cose buone e ha utilizzato bene un dono che gli ha dato Dio, la voce. Faccio degli stretti sui passi, non ci sono in mezzo e mi levano le balle. Tu mi vedi? No, sono stretto. Grazie. Grazie.